In poche ore, il video in cui si vedevano alcune persone uscire dall'ex asilo di via Fabio Filzi era diventato virale sui social, in particolare su Facebook. Le immagini, girate da alcune abitazioni limitrofi, mostravano alcune persone scavalcare dall'interno la struttura e uscire fuori sulla strada. Da qualche tempo, infatti, l'edificio era occupato da alcuni abusivi, come accaduto anche in altre zone del quartiere di Saione. Ad attendere queste persone si intravedeva anche un cane. Dopo la segnalazione di alcuni residenti e il consigliere comunale Cornacchini è scattato l'immediato intervento della Polizia Municipale. Dopo la richiesta di intervento, annuncia Cornacchini sulla sua pagina Facebook, immediato blitz e sgombero dell'asilo occupato in via Fabio Filzi. Grazie per la tempestività. I vigili urbani, all'interno di questo edificio di proprietà della Curia, hanno trovato la presenza di due italiani con un cane. Risiano una denuncia per occupazione abusiva.